Nel 2015 i leader di 193 paesi hanno deciso di lavorare insieme per creare un mondo più sostenibile e socialmente più inclusivo. Purtroppo però siamo molto in ritardo nel raggiungere questi obiettivi. SDSN, Sustainable Development Solutions Network, è una rete promossa dalle Nazioni Unite e qui a Santa Chiara Lab ospitiamo il network per quanto riguarda il Mediterraneo. Allora la formazione, l'educazione, l'università sono fondamentali per promuovere questa agenda e per queste ragioni quest'anno parte per la prima volta la Summer School sullo sviluppo sostenibile, un'iniziativa a livello nazionale organizzata insieme ad ASVIS, l'Alleanza per lo Sostenibile, e siamo molto lieti di aver avuto un grande successo di partecipazione. Quindi dal 10 al 21 settembre qui a Siena abbiamo la prima edizione della Summer School. L'Università di Siena è da sempre impegnata sui termini di sviluppo sostenibile, il Santa Chiara Lab è molto impegnato su questi argomenti, ma anche la città, la città e il suo territorio sono icone della sostenibilità nel mondo, sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista sociale. L'Università di Siena e il Santa Chiara Lab sono molto lieti di organizzare questa iniziativa. L'Università di Siena e il Santa Chiara Lab